2-2, è finito così in parità il derby tutto calabrese tra Roccella e Palmese. I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo in doppio vantaggio, ma si sono fatti rimontare dai neroverdi nella ripresa. Gli Amaranto sono apparsi fin da subito pungenti e alla prima occasione, per mezzo di Santiago Dorato, la squadra ha toccato il vantaggio correggendo in rete di testa un pallone proveniente dal corner. La Palmese subisce la seconda rete al 39esimo, sempre di testa, questa volta per merito del numero 11 Ciccone, che approfitta di una rispinta corta della difesa neroverde. Difesa di mister Salerno in evidente difficoltà con la necessità di ritrovare l'intesa giusta. Il secondo tempo però è tutto neroverde, soprattutto quando Rosario Salerno mette in campo Moio al posto di Napoli. Marco Foderaro, dall'altezza del dischetto, fotografa mitica a coronazione di un assist di Francesco Piemontese. 2-1 e palla al centro. La tifoseria neroverde con la tribuna dell'inetto muscolo si fa sempre più adrenalinica. Arriva il pari della US al minuto numero 24, angolo battuto da Corsale. Saturno, appena entrato al posto di Crescibene, fa sponda per Piemontese, che di testa sfiora quanto basta il pallone per gonfiare la rete avversaria. Sulle ali dell'entusiasmo la Palmese sfiora il terzo gol con Corsale. Termina con un punto ciascuno per cominciare positivamente la nuova Serie D. Io non direi che ci sia stato poi un calo, anche se la giornata fosa, umida, ci ha costretti a rallentare un po' i ritmi. Io devo dire che abbiamo visto un primo tempo eccezionale. Secondo me il risultato di 2-0 ci ha penalizzati anche nel secondo tempo. Loro non hanno fatto nulla per impensierirci nel primo tempo. Di contro nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, una nostra svista, abbiamo preso il gol, loro si sono rincuorati e noi ci siamo demoralizzati. La stanchezza poi si è fatta sentire, ma nonostante tutto non abbiamo saputo approfittare perché abbiamo avuto pure qualche reazione, qualche buona reazione anche nel secondo tempo. Effettivamente nel primo tempo abbiamo avuto un pochino di difficoltà perché sapevamo la loro freschezza, la loro velocità. E quindi abbiamo cambiato modulo ieri. Noi di solito non lo cambio mai perché mi dà fastidio, perché abbiamo alcuni problemi da risolvere e ho fatto questa alternativa con le due mezze punte per avere più possibilità di poter rincitare qualche palla con la qualità che avevamo con Foderare e Corsale potevamo mettere in difficoltà. Questo non è successo perché sugli unici di due traversi su calcio d'angolo l'unico traversione che c'è stato ci ha creato questo gol che potevamo pure evitare. Però sapevamo che il Rocella aveva questa freschezza e l'ha dimostrato il primo tempo. Nel secondo tempo è entrata la Palmese con il terzo uomo che è il ragazzino Moio. Abbiamo attuato il 4-3-3 e quindi abbiamo avuto più spazi nei campi. Loro un po' sono calati però è uscito più qualità. La nostra qualità, quella che usiamo dall'anno scorso, è uscita fuori. Quindi se mettiamo questo in campo possiamo divertirci. I risultati della prima giornata vedono poi la neonata regina soccombere alla versa normanna che rifila agli Amaranto tre reti, tutte dal dischetto. Amaranto che hanno giocato 80 minuti con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Roselli. Altro derby made in Calabria che si è giocato ieri e rende vibonese. La squadra rivelazione dello scorso anno cade tra le muramiche. Sebbene i biancorossi fin dalla discesa in campo sembravano voler condurre la partita, la sfida è stata decisa al ventesimo minuto da un siluro da cuori aria calciato da puntoriere. Nel finale si sfiora il pari con Marchio ma la sua conclusione colpisce in pieno scoppetta. Il risultato non cambia e la vibonese inizia bene la Serie D. Rinviata invece d'ufficio al 14 ottobre la partita Vigor-Lamezia frattese.